Queste due partite sono state molto utili sicuramente perché sono state con squadre di categoria maggiore. Sì sicuramente, siamo prontissimi perché anche oggi abbiamo dimostrato che stiamo lavorando per creare il nostro gioco e penso che arriveremo pronti al 100% per domenica perché per noi è molto importante iniziare bene. Peccato per quella palla sul 2-2 perché se fosse entrata forse cambiava la partita. Purtroppo sì, me l'ha toccata però spero di farmi presto. Siamo in compagnia di Rolando, che partita è stata quella di stasera? Ci siamo goduti la serata, è stata una bella partita. Sul 2-1 ci credevamo sul tiro di Gans, però ci siamo divertiti, è stata una bella serata e sono contento della prestazione. Com'è stato l'approccio con il professionismo e nel salto della primavera? Si è sentito molto, tutta un'altra cosa. Primavera, questo è calcio vero. Non vedo l'ora di iniziare il campionato e non vedo l'ora sia martedì per iniziare gli allenamenti in vista del Sud Genova. Quanto è emozionante tornare a Genova? È stato veramente molto emozionante. Sono stato qui 4 anni, diciamo alla Sampdoria, è come una famiglia, mi sono trovato subito bene e quindi tornare qui da calciatore contro i miei ex compagni è stato molto bello e molto emozionante. Schierato titolare, hai parato anche un rigore? Oggi era la prima da titolare in una partita ufficiale. Rigore, grazie anche al Ministro dei Portieri che ci aiuta moltissimo sui rigori durante la settimana. È capitata questa occasione, Der lo conoscevo un pochettino, sapevo che avrebbe tirato lì e per fortuna l'ho parato. Grazie. 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 Grazie.